salve d'agro palatti i turdilli chiamati da noi anche crustoli anche se quelli sono più grandi sono stati preparati vedete come sono bellissimi col miele alla fine a decorare e anche abbiamo messo delle scagliette di cioccolato fondente non avevo quelle diavolette quelle parline qua ho messo un po di pistacchi di granella di pistacchio però che avevo a disposizione questa cosa è anche stata fatta questi sono ovviamente più morbidi rispetto a quelli tradizionali che richiede una ricetta più serrata con la farina addirittura immaginata in questo caso siamo andati con la farina 0 e 00 un compromesso diciamo un buono per diamone uno proviamolo col miele sono veramente una spesitezza proviamo come sono venute morbidissimo non sono proprio come si dice una brioche ma vi posso assicurare che sono della giusta consistenza io ne provo un altro con queste scagliette di cioccolato domani forse ci sarà la pasta con best e per quest'anno finito perché non faccio di più perché insomma c'ho tante rogni di macchine tanti altri impegni che non posso fare di più però con questa roba si ci dirà fino ad ipifania grazie all'attenzione da michele expert